Grazie Presidente, ne userò molti meno. Questa mozione per noi ha una importanza strategica perché una delle maggiori critiche che è stata fatta al reddito di cittadinanza è che sia un mero assistenzialismo e invece quello che in realtà è dare una possibilità alle persone che non soffruiscono e che sono in condizioni di potersi reintegrare anche nella vita lavorativa, nella vita sociale e attraverso i lavori socialmente utili di prestare il proprio operato per il vantaggio della collettività. Quindi per noi avere una cabina di regia che riesca a monitorare queste attività, anche perché la città di Roma è una città molto complicata, ci sono 15 municipi e ognuno ha un mondo a sé come un grande comune delle altre regioni e avendo ognuno di questi municipi delle proprie particolarità si potrebbero differenziare le richieste per i lavori socialmente utili e si potrebbe avere sia un supporto a favore delle amministrazioni ma anche e soprattutto dare una nuova voglia alle persone che ne necessitano di credere in se stessi e di trovare la volontà di fare qualcosa oltre che per se stessi anche per la comunità. Riteniamo che sia fondamentale per la buona riuscita di questi progetti che ci sia questa cabina di regia e appunto per questo noi la voteremo favorevolmente. Grazie.